Prosegue la campagna di rafforzamento della Nissa in vista del prossimo campionato di eccellenza. La squadra del presidente Sergio Iacon ha ufficializzato l'ingaggio del portiere palermitano Totò Chimenti, 32 anni. Il nuovo numero uno biancoscudato porta con sé un bagaglio di esperienza di tutto rispetto. Soprannominato l'uomo ragno per le sue doti acrobatiche, Chimenti nelle ultime tre stagioni ha difeso i pali dell'atletico Nissa nel campionato di promozione, costruendosi una fama di portiere para-rigori, dopo avere neutralizzato quattro tiri dal dischetto nel corso dell'ultimo campionato. In passato ha militato in squadre come Pomezia, Alcamo, San Giovanni Gemini, Partinico Odace e Profavara.